I nuovi focolai sono una eventualità tutto sommato attesa. Non ci si poteva illudere che riaprendo non sarebbe successo più nulla. Tuttavia ciascuno di essi va considerato con la massima attenzione ed è fondamentale il loro rapido contenimento. A questo fine è assolutamente necessario il potenziamento della medicina territoriale e della capacità di identificare e circoscrivere rapidamente i focolai risalendo la catena di contatti. Lo ha spiegato all'ANSA Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano. Il punto, ha aggiunto l'infettivologo, è che su 100 persone infettate da SARS-CoV-2, 90 hanno una limitata capacità di trasmettere l'infezione, mentre gli altri 10 infettano e tra loro ci sono dei veri e propri superdiffusori. Saranno proprio questi ultimi i responsabili dell'80-90% delle nuove infezioni.